Una bella vittoria con la Lube che riesce a sbloccarsi, dopo la sconfitta con Perugia arriva la vittoria con Trento. Ci voleva questa vittoria Bruno nella tua nuova stagione, la tua rinascita un po' dopo Modena, c'è Civitanova. Sì, sicuramente era molto importante per la squadra, noi ancora dobbiamo creare non solo i meccanismi tecnici e tattici, però il sistema di gioco ma principalmente conoscersi e questo solo in partita che puoi capire meglio i tuoi compagni. Secondo me oggi siamo stati bravi anche se per momenti nella partita abbiamo calato un po' però non abbiamo molato mai. Siamo andati dietro nel tie break per un paio di punti e dopo siamo tornati e questo dimostra che la squadra c'è. Sappiamo che abbiamo tantissimo da lavorare, secondo me le aspettative erano anche noi, secondo me siamo entrati un po' in una trappola che pensando che potevamo arrivare già a tutto andare bene e invece no, dobbiamo lavorare, essere umili per continuare a crescere. Sei abituato a giocare nelle squadre di campioni e questa è una squadra di campioni comunque. Sì, sì, sicuramente, però secondo me è quello che abbiamo fatto ognuno sia nella sua squadra, sia Civitanova, alcuni, altri in altre squadre o nazionali. Noi dobbiamo proprio togliere perché noi vogliamo vincere insieme, vogliamo vincere quest'anno e per questo noi dobbiamo lavorare e continuare a migliorare ogni giorno.